Frescura dei vetri nell'appoggiare la fronte alla finestra, luci di notte che nello spegnersi ci lasciano ancora più soli, ragnatela che il fil di ferro tesse sulle nostre teste, il trottare ampolloso dei ronzini che passano e ci commuovono senza una ragione, che cosa ci fa ricordare i versi dei gatti in calore e quale sarà l'intenzione delle cartacce che si trascinano nei cortili vuoti. Ora che i mobili vecchi ne approfittano per togliersi di dosso le bugie, le tubature liberano grida strangolate come se soffocassero dentro le pareti. A volte si pensa nell'accendere la luce allo spavento che prenderanno le ombre e vorremmo avvertirle per dar loro il tempo di raggomitolarsi negli angoli. E a volte le croci dei pali del telefono sopra le nostre teste hanno qualcosa di sinistro e uno vorrebbe appiccicarsi alle pareti come un gatto o un ladro. notti in cui desideriamo che ci massaggino la schiena, in cui si capisca subito che non c'è tenerezza paragonabile al carezzare qualcuno che dorme. non c'è un'attività, non c'è un'attività. non c'è un'attività, non c'è un'attività. non c'è un'attività.